Oggi giornata da turista nella Tuscia Viterpese. Sono stato a Bolsena, Monte Piascone dove c'è la Rocca dei Papi. Adesso sono a Capodimonte dove c'è un bellissimo dal vedere, vedete? Fra poco vado a farmi un bel giro in barca sul lago. Faccialo youtuber. Io sono Massimiliano. Guardate che giù c'è.